Come lo passerà un Gaetano questo Ferragosto? Niente, allora, a mare, dopo a pranzo con i parenti, con i miei, i miei fratelli, e la sera probabilmente un bel barbecue. Voi da dove venite? Da Roma. Sì, abbiamo casa della famiglia e stiamo qui per qualche giorno. Un po' di relax in spiaggia e poi forse andiamo a cena fuori. Quindi magari aspettiamo qua il tramonto in spiaggia. La temperatura oggi è bella, si può stare benissimo al mare, poi Gaeta è sempre splendida. Lei di dov'è? Io sono della provincia di Benevento, un paese che si chiama Dugenta. Molto caldo, meno male che non lavoriamo oggi e siamo venuti a Gaeta a conoscere un po' la città. Dal Brasile con furore, perché proprio qua a Gaeta? Allora, noi viviamo a Roma, quindi abbiamo deciso invece di andare fuori all'Italia, comunque ferragosto sempre pieno, abbiamo deciso di venire a conoscere Gaeta. Ecco, come avete saputo di Gaeta? Gaeta perché è una delle spiagge più belle che ci sono qua vicino a Roma, Lazio, quindi abbiamo deciso qua. Com'è la temperatura? Non è come il Brasile? Mamma mia, ma qua fa troppo caldo, è proprio difficile, no, cioè qua è più caldo di Brasile. L'acqua è bollente praticamente, però è comunque piacevole, il caldo si sente, lo attenuiamo con un bel bagno. Ecco, l'avete trovata affollata questa zona? Ma un po' oggi, vabbè, normale, però rispetto al solito nemmeno troppo. È un posto magnifico dove mi rilasso e ci tengo. Ecco, che cosa farete oggi? Io mi diverto e prendo il sole con i bambini, sto in famiglia e passo una bellissima giornata. Ecco, voi mangiate qua sulla spiaggia? Sì, sì. Che cosa avete portato da mangiare? Bastoncini per i bambini, un po' di prosciutto, un po' di mozzarella.